...per rafforzare il loro controllo sulle aree di produzione dell'ombo. Nel contempo hanno lanciato un'offensiva... Escape War è un'installazione per emergency e appunto come dice il nome stesso un escape room. Quindi risolvendo i giochi e gli enigmi riuscite a scappare dalla stanza ma allo stesso tempo vi ritrovate in Afghanistan in una situazione di guerra che è quella in cui opera emergency. E quindi nel gioco e giocando riusciamo comunque a spiegare quello che in realtà fa emergency, le situazioni che si trova ad affrontare. E quindi come inviati di guerra vi ritrovate dentro questo gioco risolvendo gli enigmi, imparate a conoscere quello che succede in Afghanistan, riuscite a uscire dalla stanza e cerchiamo di diffondere appunto il messaggio di emergency. Ha passato tutta la notte accudito dai familiari senza poter vedere un medico, senza neanche un antidolorifico. Sharmu Ahmad si è salvato, cercherà rifugio all'Ashkar Gha perché non ha più una casa ed è troppo pericoloso tornare al suo villaggio. A chi chiede perché rimaniamo a l'Ashkar Gha mentre tutti intorno si combatte.